Situazione stabile in Sicilia in relazione all'epidemia da Covid-19. Seppure lievemente cale il numero dei ricoveri, aumenta quello delle persone guarite. Secondo il report comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di Crisi Nazionale, aggiornato alle ore 16 di oggi, lunedì 4 maggio, sono 2.202 le persone attualmente positive nell'isola. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 87.166, 1.211 in più rispetto a ieri. Su 79.336 persone sono risultate positive, 3.255, 15 in più rispetto al giorno precedente. Sono 809 le persone guarite, più 14 e con altri due decessi, le persone che non ce l'hanno fatta sono ora 244. Degli attuali 2.202 positivi, 403 pazienti sono ricoverati, di cui 27 in terapia intensiva, mentre 1.799 sono in isolamento domiciliare. La fase 2 si apre in provincia di Agrigento con un report sulla situazione dei contagi che nelle ultime 24 ore non ha subito alcuna variazione. La buona notizia è che ormai da giorni non si registrano nuovi contagi. Secondo l'azienda sanitaria provinciale, gli attuali positivi sono 35, di cui 9 ricoverati in ospedali, tutti di altre province, e una persona attualmente ospitata presso una residenza sanitaria assistita di Caltanissetta. Su 123 contagi che si sono registrati in provincia di Agrigento dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 75 e le persone decedute 13. 25 soggetti sono posti in quarantena, i tamponi complessivamente effettuati sono 4.349. Nel dettaglio per comuni, a Sciacca, su 25 casi complessivamente registrati, 4 sono state le persone decedute e 18 quelle guarite. Sono sempre 3 i soggetti ancora positivi. Situazione invariata dunque ormai da alcuni giorni. A Menfi, su 12 casi complessivi, sono 9 i guariti, una persona è deceduta e 2 sono gli attuali positivi. Per Santa Margherita Bellice, l'azienda sanitaria provinciale continua a registrare il caso di positività dell'anziano che dall'ospedale di Sciacca è stato poi trasferito a Palermo. I comuni in cui si registrano ancora soggetti positivi al Covid-19 sono Agrigento, dove su un totale di 13 casi 7 sono i guariti, 2 i deceduti e 4 gli attuali contagiati. Campobello di Licata, dove su 5 casi accertati non si è registrata alcuna guarigione e dunque sono tutti ancora positivi. Canicattì, dove su 7 casi complessivi 4 sono i guariti e 3 gli attuali contagiati. Cassel Termini, dove su 4 casi si è registrato un decesso e gli attuali positivi sono 3. Porto Empedocle, dove su 6 casi complessivi si è registrata una sola guarigione e gli attuali positivi sono 5. Ravanusa, dove su 4 casi c'è un guarito e 3 attuali positivi. Real Monte, dove sono ancora positivi gli unici due casi accertati. Un solo positivo invece rispettivamente per i comuni di Siculiana, Palma di Montechiaro e Naro. Non registrano alcun caso i comuni di Ribera, Aragona, Caltabellotta, Camastra, Licata e Raffadali.